Cinzia, Cinzia Guerrera, The Loft Club, questa bellissima realtà messinese in cui ci stiamo trovando oggi pomeriggio per la presentazione di questo libro, questo collettivo di scrittura autobiografica, e che siamo state accolte in questo bellissimo posto ospitato al centro della città di Messina. Ci siamo preparate fondamentalmente rileggendo i nostri testi e l'emozione c'è perché è sempre bello comunque condividere un'esperienza bella come è stata quella del percorso dell'autobiografia, quindi speriamo che la nostra esperienza allieti gli altri ma soprattutto magari li porti a fare lo stesso tipo di percorso, perché no? Per noi è stato così bello. Milena, un'altra scrittrice di scritti a dirotto, come ci sentiamo stasera? Siamo pronti a condividere ancora una volta? Sì, siamo pronti a condividere, forse anche con maggiore emozione stasera. Ma sicuramente anche con maggiore consapevolezza. Certo, certo, comunque è comunque una bellissima esperienza. Aspettiamo di vivere questa nuova avventura e speriamo che qualcosa succeda, si uscirà soprattutto emozioni come questa storia ha emozionato noi, quindi è un flusso emozionale alla fine tutto questo, quindi speriamo che succeda ancora questa piccola magia. Anche in questa serata un po' tutte siamo emozionate come per la prima volta, speriamo tutte di poter fare emozionare anche chi ci sta guardando in questa occasione. È una sensazione molto piacevole e sono anche molto contenta di aver partecipato a questa iniziativa insieme alla mia maestra Daniela di scrittura, perché è una cosa decisamente positiva. Qua ovviamente è sempre emozionata, però è solo un gioco, mi piace vederla così, è un gioco da condividere in una serata tra amiche. Ti stai divertendo? Sì, bene. Esperienza bella ovviamente di condivisione, di aggregazione e continueremo sicuro.